e la salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo tutorial visto il caldo oggi mi è venuto in mente questo tutorial di come ridurre la nostra reflex in questo caso la mia sd in questo modo come potete vedere davanti a voi ovviamente è un metodo che potrete usare con qualsiasi altro oggetto e oggi andremo a vedere come realizzarlo quindi cancelliamo tutto e andiamo a vedere come realizzare questo stupendo effetto buttiamo tutto nel cestino e via ecco come prima cosa dovete avere uno sfondo io in questo caso ho preso un tavolo ho fatto una foto e ci ho applicato un po di foschia ovviamente voi potete usare qualsiasi sfondo vogliate comunque per questo genere di tutorial che andremo a fare questo effetto va abbastanza bene seconda cosa che dovremmo avere in questo caso io ho detto la nostra reflex quindi ho usato una reflex voi comunque potete usare qualsiasi oggetto vogliate come avevo detto precedentemente e dovete scontornarlo per scontornarlo ho fatto parecchi tutorial che potete andare a spulciare dentro il mio canale o altrimenti vi farò vedere in modo semplice come scontornare un oggetto ovviamente se avete una base bianca se scatterete una foto su una base bianca sarà più semplice vi farò vedere in velocità come scontornare questo questo questa reflex in questo caso basterà prendere il pennello strumento di selezione rapida se avete uno sfondo bianco e con il più selezionato andarvi a prendere la vostra reflex avendo ovviamente uno sfondo bianco selezionerà tutto principalmente mi raccomando vedete bene che le parti bianche siano selezionate in questo caso non è stata selezionata questa parte noi andremo a selezionarla e così via io adesso deseleziono perché comunque ho già fatto la selezione quindi come potete vedere dopo con ctrl j andrete a copiare il livello e togliendo lo sfondo sotto si selezionerà la nostra reflex quindi andiamo a prendere la nostra reflex e andiamo a portarcela sul nostro livello bene con il pulsante ctrl t o command t in base se avete windows o mac andiamo a selezionare la nostra reflex mi raccomando tenendo premuto il tasto shift andiamo a dargli le dimensioni che vogliamo e a portarcela ovviamente dove vogliamo in questo caso facciamo una cosa di questo genere e il primo passo è stato fatto ora cosa facciamo se vediamo che c'è rimasto un pelino di bianco è molto semplice toglierlo basterà cliccare due volte sul nostro livello e aggiungergli un bagliore interno o un'ombra interna ancora meglio portiamo la dimensione a 8 e clicchiamo su ok come vedete quei puntini bianchi che c'era non si sono tolti bene ora andremo a con ctrl j o command j a copiarci il nostro livello della nostra reflex e con il pulsante destro andremo a rasterizzare il livello questo ci servirà perché abbiamo scontornato la nostra reflex in questo caso perché con il filtro che andremo a usare adesso per liquefare la nostra reflex dovremo andare a liquefare ovviamente solo la parte della nostra reflex e quindi non il tavolo o lo sfondo quindi ora andremo su filtro fluidifica con una dimensione del pennello più o meno questo dipenderà molto dalla dimensione della vostra foto ovviamente io l'ho fatta per youtube quindi non è che sia così grande vedete voi di mettere il pennello più o meno una dimensione di questo tipo con la pressione a 40 e una densità di pennello a 100 quindi andremo a liquefare come dicevo prima come potete vedere la curvatura la parte della nostra reflex ovviamente cercate di fare una cosa abbastanza realistica e notate bene che sotto comunque avrete il tavolo quindi che segua più o meno le dimensioni di tavolo almeno in questo caso e quindi cercate di quando andrete a liquefare praticamente la reflex di portarla un po sul piano oltre che verticale anche orizzontale adesso io qui farò molto veloce dopo voi ovviamente potrete fare delle cose ancora più bene più belle e cercherò di essere molto veloce giusto per farvi vedere quale sarà praticamente il metodo da usare come potete vedere vado verso il basso ma vado anche orizzontalmente perché come vi dicevo prima deve sembrare che comunque la nostra reflex si sciolga sopra il nostro tavolo potete usare anche un pennello un pelo più piccolo per dargli dei dei tocchi più precisi quindi come in questo caso vediamo però di fare una cosa un po più bella magari potrete portare anche come vedete verso l'interno così da dargli quei piccoli tocchi in più ed ecco fatto bene l'effetto così può andar bene quindi una volta finito clicchiamo su ok e come possiamo vedere abbiamo la nostra reflex liquefatta sopra al nostro tavolo come abbiamo detto prima abbiamo seguito un po le linee per farla sembrare proprio liquefatta sul nostro tavolo e adesso andremo a vedere cos'altro fare bene ora andiamo a dargli un livello sul freddo quindi un po più scuro per rendere ancora più veritiera la nostra foto e quindi creeremo un nuovo livello semplicemente cliccando su questa icona di nuovo livello e andremo a dargli con il nostro colore in primo piano di sfondo un colore e io tendo a dare questo colore e poi comunque voi andrete a scegliere il colore che volete è uno 0 e 131 di come vedete è un azzurino molto scuro tendente al grigio quindi clicco su ok e con il nostro secchiello andremo a dargli l'immagine non spaventatevi perché adesso col metodo di diffusione luce soffusa come potrete vedere abbiamo dato un effetto più realistico stile cinema alla nostra reflex bene ora andremo ad applicare delle texture sulla nostra reflex quindi andremo a prenderci una texture simile a questa comunque potete trovarne un casino su google basterà scrivere texture terra o altre cose e ne troverete tante poi vedrò se riuscirò a mettervele anch'io magari un link sotto in descrizione se avrò tempo allora prenderemo quindi la nostra texture e andremo a portarcela sopra le nostre immagini quindi con lo strumento sposta ce la porteremo sopra la nostra reflex ovviamente come dicevo prima ho fatto un'immagine per youtube quindi è più piccola e dovrò andare a modificare semplicemente con control t come potete vedere le dimensioni della texture con control più vado a riportarmi la mia immagine bene e me la sposterò in modo da prendere più o meno tutta la mia reflex così in questo caso quindi clicchiamo su invio ovviamente ci sposteremo il livello sotto al gradiente blu che abbiamo fatto prima e andremo a dargli praticamente una opacità del 70% e andremo a portarci il metodo di fusione su moltiplica una volta fatto questo col pulsante alt andando in mezzo come vedete due livelli cliccheremo col nostro mouse e applicheremo quindi l'effetto solo sulla nostra reflex appunto dicendovi precedentemente che avremo scontornato la reflex per fare solo gli effetti sopra alla nostra reflex ecco se qualche parte volete magari un po' più schiarirla o cancellarla sarà molto semplice basterà cliccare il nostro strumento gomma dandogli un'opacità molto bassa così da non far vedere comunque le cancellature o gli schiarimenti e se magari c'è qualche parte come potete vedere che non volete far vedere le crepe magari un po' più verso l'alto che deve essere meno crepata ecco così o sopra la lente magari sulla lente possiamo usare anche una percentuale del 100% ecco in questo caso così è più veritiera abbiamo fatto così la nostra prima texture quindi il nostro primo passo per rendere la nostra reflex in questo caso liquefatta quindi ora cosa andremo ad aggiungere ora andremo ad aggiungere invece una texture lava quindi andremo ad aprirci la nostra texture della lava chiudiamo questa texture appena usata io vado a vedermela eccola qui perché l'ho aperta prima l'ho fatta prima bene e presa una volta la nostra texture della lava andremo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto precedentemente quindi con lo strumento sposta andremo a portarcela sopra la nostra reflex con control T o command T andiamo a posizionarla dove vogliamo senza paura mi raccomando sempre sotto al gradiente del colore di livello che gli abbiamo dato e qui usando un po' anche l'opacità per vedere dove andremo a inserire la nostra texture andremo a spostarci per il nostro effetto ecco una volta fatto questo andremo su trasforma quindi su modifica trasforma e andremo su distort questo perché perché dovremo seguire praticamente la nostra reflex ora vi faccio vedere come andrete a selezionare se non ci avete selezionato passa modalità trasformazione libera e andremo a spostarci così quindi a seguire più o meno l'effetto che vogliamo dargli alla nostra reflex mi raccomando questo effetto diamolo solo verso il basso vedete che io non ho preso questa parte della reflex perché così l'effetto verrà più bello quindi togliamo la lava dalla lente lasciamola qui qui possiamo aggiungerci così una volta finito clicchiamo su invio come potete vedere abbiamo dato il nostro effetto però l'abbiamo dato anche sulle parti del tavolo semplicemente con il nostro strumento gomma andremo a cancellare le parti tenendo sempre l'opacità che non ci interessano poi comunque vedremo poi anche le piccolezze ecco fatto magari andiamo anche un po' più qua sul dentro andiamo a aumentargli l'opacità come potete vedere il primo pezzo è stato fatto non vi preoccupate che dopo tramite metodo di fusione andremo a dargli un effetto veritiero bene faremo la stessa cosa anche su questa parte ovviamente quindi con ctrl j vado a doppiarmi il livello vado sempre con l'opacità su un 45% per vedere dove vado a mettere la nostra lava ecco fatto e ovviamente con la nostra gomma andremo a cancellare le parti al di fuori della nostra reflex con un pennello morbido mi raccomando ecco fatto ecco fatto portiamo la nostra opacità al 100% vediamo come è venuto quindi ritorniamo a cancellare la parte che vediamo al di fuori stessa cosa facciamo anche dall'altra parte se abbiamo dimenticato qualcosa bene ora prenderemo i due livelli selezioniamo con shift tutti e due tasto destro del mouse unisci i livelli per renderli in un unico livello ora cosa andremo a dargli come vi dicevo prima andremo a dargli il metodo di fusione quindi andiamo su schiarisci eccolo qui e come potete vedere gli abbiamo dato l'effetto in stile lava come precedentemente se abbiamo dei pezzi che non ci piacciono semplicemente con un 30% andiamo magari a togliere dove non vogliamo l'effetto delle crepe della lava ecco così ed ecco qui anche questo passo è stato fatto come vediamo la nostra reflex sta prendendo una una bella forma bene ora cosa andremo a fare bene ora non ci mancano altro che le fiamme quindi andiamo a possiamo anche chiudere gli altri livelli andiamo a prenderci il nostro fuoco quindi con file apri ci dovremo andare a prendere praticamente l'effetto fiamma basterà andare comunque a cercarselo su google con fire render o altrimenti andate sempre spulciando dentro il mio canale dove troverete il photoshop pack che vi ho messo tempo fa e lì potrete scaricare un casino di cose che ho messo per voi ecco quindi andiamo a prenderci qui come vi dicevo prima bene ora andrò con control t a diminuire la dimensione perché come dicevo prima ho fatto la foto per youtube voi dopo vi regolerete la vostra ce la riportiamo qui sul nostro sulla nostra reflex e la spostiamo dove vogliamo dargli l'effetto della fiamma in questo caso io la porto qui così magari la ingrandisco solo un pelino di più in questo modo stessa cosa faremo con altre fiamme ci prendiamo questa parte qui magari possiamo chiudere anche già l'altra io vado sempre a rimpicciolirmela ce la portiamo sulla nostra immagine e la mettiamo dove più ci piace in questo caso la metto qui che venga fuori dall'apertura dell'obiettivo possiamo anche con control j andarci a copiare la nostra fiamma senza aprirne tante altre e magari andare a diminuire a spostare le dimensioni sempre con control t qui questa ce la spostiamo un po' così questa la facciamo venire per dietro quindi con lo strumento gomma andiamo a cancellare la parte che non ci interessa così in questo caso così ne aggiungiamo anche magari una sull'obiettivo tipo questa quindi con control t me la vado a diminuire e con lo strumento sposta me la porto qui con control t me la aggiusto o command t come dicevo prima in base al sistema operativo che avete metto un po' più spostate in qua ecco ecco ora per rendere più realistica la cosa cosa andremo a fare con un pennello in stile fumo o nuvola anche può andar bene questi si trovano sempre come vi dicevo su google basterà semplicemente mettere il nome al massimo un nome in inglese visto che ce ne sono molte di più e quindi scrivere su google il nome e andarsi a scaricare tutti i pennelli o tutte le cose che serviranno quindi come ho fatto io quindi andiamo a prenderci un pennello ecco come vedete ce l'ho già fatto da prima quindi ho già selezionato cosa andremo a fare andremo a crearci un nuovo livello questo perché dopo ci consentirà di fare le nostre livello modifiche che vogliamo quindi andiamo ad aggiungerci magari un effetto fumo non ovviamente nero ma bensì in bianco quindi colore di primo piano bianco e andiamo ad aggiungerci come potete vedere le parti magari usando un'opacità un po' più bassa tipo un 60 per cento un 70 per cento e viene meglio anche mettendo un metodo di fusione scolora come potete vedere quindi qui dopo starà a voi usare l'effetto che volete come potete vedere gli diamo così un effetto fumo potete anche rimpicciolire il tutto o modificare anche tramite un nuovo livello l'effetto fumo in questo caso così non mi piace quindi magari usiamo uno un po' più grande e lo mettiamo qui su stessa cosa qui creiamo sempre un nuovo livello se vogliamo fare magari degli accorgimenti nel senso che magari vogliamo farlo un pelo più chiaro il fumo che va su così possiamo modificare l'opacità come potete vedere stessa cosa faremo dagli altri parti quindi basterà sempre aggiungere un nuovo livello magari aumentare in questo caso un po' l'opacità e fare anche dell'effetto fumo magari qui sopra possiamo aggiungerglielo anche qui fare un effetto fumo anche dove non c'è la lava ma ci sono le crepe per dare sempre un effetto un po' più realistico è la cosa stessa cosa facciamo dove vogliamo quindi come vi dicevo prima magari possiamo aggiungergli dell'effetto fumo anche qui e niente questo sarà il nostro effetto come vedete almeno per me è abbastanza realistico ed è molto bello come effetto ora può mancare solo la vostra firma ed il gioco è fatto benissimo amici spero che il tutorial vi sia piaciuto mi raccomando continuate a seguirmi per tanti altri tutorial non ho avuto tanto tempo ultimamente però ci sono sempre e appena ho un po' di tempo cercherò di realizzare dei tutorial per voi bene io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao